FABBI FOIA FABBI FOIA MARCO 2 ma che cazzo c'è una partita di calcio Campa 5 Voto FABBI PER RIMAX Voto FABBI PER RIMAX Voto FABBI PER RIMAX Vai vai OP Sei mutata nel caso vuoi dire che sono io Voto 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 Corridorio di comunicazione Voto Aspettate la che dillo Prima dillo Prima dillo Cosa devi dire Voto Quello che devi dire Ma cosa Devi dire voto che l'altro tizio davanti Voto Voto Qualcuno parla per favore Vai OP Ha parlato si Eh due corpi Communication Fuori corridorio Barry Ora ascoltami Barry Io col tempo in cui mi hai visto Come ho fatto a fare doppia Era doppia Sì Doppia E poi spiego un'altra cosa Io stavo arrivando giù OP mi stava correndo Contro Ha cambiato subito direzione Ha riportato prima di me No 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 Mi stavo cagando addosso Mate Eh sì E appena si sono aperte Allora ragazzi Non l'avrei mai detto Ma mi fido di voto Questa volta E lo so che Non l'avrei mai detto Ragazzi Barry raga Barry raga Gnoalibi Mi sento fiero di questo Perché Ognuno dica le proprie posizioni Perché ragazzi Eravamo io Max Ehm Non ho potuto fare doppio Fabi che poi però Fabi Però C'era un quarto Chi era? Io Ok Era Barry con noi Ma raga c'ero io Che cazzo dite che nasce No vabbè all'inizio però L'inizio C'era C'era Nate Barry Ah poi noi diciamo alla fine Diciamo alla fine Ah no Alla fine io ero bello che andavo Ero già a sinistra Ma Barry che era a sinistra Come cazzo hai fatto ad essere così? Adesso Ma tu sei sceso giù giù poi? Io te Oh zio Ero con te Fabi Non ti ho mai accusato Perché Voto Aspettate perché Voto Voleva conferma Da te Eh perché io ho visto Voto scendere Sono sicuro E volevo chiedere conferma anche a te se l'avevi visto E Sì sì Era in navigation pure sì Ok Lo dico prima Io schifo perché non ho info Voto 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 Vabbè Quella è andata male No Fabi no ragazzi Accanto a me Fabi No secondo me o è Max o l'altro Nade Non so chat Pure Fede Pure Fede Raga O Hop o Nade O Max o Fede Fastest fuck Voto Nade 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 Allora, non può essere lui, perché all'inizio c'è stata una doppia Barry era accanto a noi Barry non è un assassino Gli impostori sono sicuri O Nade, o Hop O Max, che era molto fede O Voto che era con me tutto il tempo E quando è stato trovato questo corpo Io ero tranquillamente l'unico A fare luci in Electricity Voto può confermare Non iniziare a puntarmi Barry è impossibile Fidati, Barry è impossibile Io posso dire che La mia call viene perché il corpo l'ho trovato a destra Lui è venuto da destra In quattro me l'avete confermato Perché hai saltato due cadaveri? Ma Perché all'inizio hai saltato due cadaveri? Raga, ma io come facevo a uccidere due persone? Va bene, cos'hai votato? Raga, aspettate un attimo Ma perché? Hai votato lei? Raga, raga, allora C'erano due corpi Io come facevo a uccidere due persone? Ma non c'entra quello Perché ti hai saltato due corpi? Cioè hai fatto tipo salto in alto Ma non hai saltato due corpi? T'ho detto Medaglia d'oro salti in alto Allora Eh, medaglia d'oro salti in alto Ho sentito non erano due corpi? Cioè erano due Erano due le omestioni Allora Allora Proto hop Però Sappiate Non mi fido ciecamente di Fabio e Ray Foglia Foglia Aspetta Fermi Foglia Tu dove ero all'inizio? Aspetta All'inizio Quando Sì Quando ci salti I due morti Con op Cioè medaglia d'oro salti in alto Oh è nade o è foie ragazzi L'altro È easy bro You can fought with me Brother for other mother Allora Poi Nade non può essere Voglio Perché? Fare la mia call Perché era sempre siamo a me Voglio fare la mia call Allora Sono stata adesso fino a mo anche con Barry Non lo toccate Non mi interessa Allora Di luce All'inizio Eravamo Io Voto Barry Fabi Fabi Ehm E Bass E Fraston Forse Non mi ricordo comunque sono morti sti cazzi Vabbè Ed eravamo Aspetta Ed eravamo in navigation Poi si è staccato Voto Che è sceso Però è andato contro Hop Separati dal gruppo Che potevano fare la doppia Perché sia Voto che Hop I due contrasti dicono che era una doppia Sono O Nate O Foglia Quindi Non mi puoi dire Non è giusta la call Perché è logica Bravo Nate Ok Posso dirti che io Dando per scontato che è opera giusta è questo Certo Stanno anche dando per scontato che per forza di roba hanno fatto la call nello stesso identico istante Quando si stanno dimenticando che io prima all'inizio ho detto che storage era chiuso E se un corpo era nel corridoio magari uno ha fatto la kill prima e uno ha fatto la kill dopo ma io non mi voglio sentire dalla colpa quando sono stato con voi all'inizio e poi me ne sono andato ed ero tutt'altra parte poi sono stato con Voto e non è successo un cazzo Sì ma ti ripeto Io ho risolto le luci due volte e non è successo un cazzo Il problema è che pure se sono stati comunque in cinque secondi diversi noi eravamo a destra insieme No 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 non parlo di cinque secondi diversi Ma comunque noi eravamo a destra insieme quindi non siamo stati noi Siete sta Domanda Siete stati tutto il tempo Tutti e quattro assieme Sì Sì Tutto il tempo Siete stati No tutto il tempo no Tutto il tempo Io errei tutto il tempo Perché se mi state dando la colpa soltanto perché io dopo esser stati in navigation con voi messo dato E non abbiamo idea di quando sia stato fatta la prima kill se eri in contemporanea o no Non me va perché ve l'ho anche detto che ero totalmente andato via E poi sono stato con Voto Sai qual è il problema? No 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 spè siccome erano insieme i corpi non sono potuti morire separatamente Perché se no qualcuno, quello il secondo Averbe riportato il corpo Questo è stato una doppia Non è vero Si è una doppia I corpi erano troppo vicini Se uno chiude le porte e non può riportare Prima si uccide uno Poi quando si vede che lo va a riportare Si mira la porta e poi lo si ammazza No, 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 sì, questo è una doppia Vabbè, ha perso il killer Perché si attacca al cazzo Si siamo sei, lui è solo Che secondo me è nade Io ho finito le tasks Ragazzi è stato un piacere sto con voi Andiamo a fare le luci Ta 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 Le luci Ta 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 Ragazzi facciamo le tasks Tasks grazie We can do the tasks Thank you I will appreciate Io vado con Barry Vai Barry fammi sta task Leave the Come toccare Leave the Insomma Bello sto Ho avuto paura Allora ragazzi vi dico una cosa Eppure è stupido È il mio best friend al momento Ma è pure stupido Perché ha ucciso la persona Accanto alla persona sbagliata Perché io ero insieme a cinque Quando sono morti i corpi Nade me l'ha ucciso davanti Mi ha ucciso Barry Ciao zio Beh parlate una alla volta raga Me l'ha ucciso davanti Barry era quello che prima mi poteva dare l'alibi Mo' è morto Il prossimo è voto che può darmi l'alibi Come può essere che mezza lobby Me dà l'alibi Tu sei l'unico che me dà contro Soltanto con sta logica Che poi ho proprio chiesto Eravate tutti assieme Ora mi difendo io E poi gli altri decidono Aspetta Aspetta Vai re L'ultima cosa che tu puoi dire Che ti può dare l'alibi al 100% È solo una persona Fabi Fine Eravamo Voto Tu ci hai visto Tutti su Io, Fabi, Voto Bli bibi Bala pub Bala bab E giù o fuori Lontani c'erano Nade Foglia E comunque qualche morto Ok Ora secondo te Io come avrei potuto fare La doppia Se ero sopra con gli altri Te hai visto Nade uccidere Sì sì Eravamo in tre Io in shields Io Nade Ma è lui No ma per farvi capire Aspetta Sto ancora a parlare E mi sta dando la colpa Per non farvi votare A cazzo di cane Perché è ovvia la cosa Cioè lui ci sta provando In tutti i modi Ok Aspetta Cioè Eravamo in shields Io Barry che ha fatto lo shields Quindi almeno la task l'ha fatta E E Nade Eravamo Un trio messo lì Ho detto Nade col cazzo che mi fotti Sono andato indietro Botra e tutto Me l'ha uccisa Ti sei divertito a insta votarmi Come anche insta Hai portato la tua kill Certo Io Nade Io Nade ho votato Semplicemente perché era doppia Raziv era sopra Ma io me lo posso ancora rispiegare Per la me Eh niente Eh fratelli È perso la persona sbagliata Ma è esatto Devi sta con foglia Non devi sta con me Perché c'era doppia raga Doveva stare con foglia che era l'altro indiziato Non con me Io volevo fare una domanda a Fabi Fabi quanto ti fidi di Raziv? Tanto Era attaccata a me Non puoi essere Raziv Foglia votami perché tanto Ma Ray poteva uccidermi fino a mo Era attaccata a lui Tanto Nade era facile Cioè sono stata attaccata a Ray tutto il tempo Ahimè Nadia qua ha sbagliato Eh fratelli Ho capito Perdonami posso dirti una cosa Tu hai ucciso Era un momento fosse voto Easy